un albero secolare tragedia sfiorata questa mattina nel comune di rocca piemonte poteva avere infatti un epilogo drammatico l'episodio se si fosse verificato in una normale giornata lavorativa l'albero secolare un pino è venuto giù a causa del forte vento che sta sforzando da questa notte l'intero comprensorio l'agro sarnese nocerino l'accaduto in via pigno il fusto si trova all'interno della storica villa ravaschieri splendida cornice che da qualche anno ha visto l'area e la struttura riconvertiti al luogo per celebrare eventi privati il pino è venuto giù poco prima delle sei di questa mattina ed è arrivato anche ad invadere l'intera carreggiata il crollo ha letteralmente squarciato anche parte dei cancelli d'ingresso della scuola media dell'istituto comprensivo vassalluzzo un'immagine devastante e terribile e poteva davvero essere una tragedia proprio perché la zona è frequentata ogni giorno dalla popolazione studentesca sopra luoghi e verifiche nell'intera area che è stata anche transennata si cerca di capire cosa sia accaduto in che condizioni fosse l'antico arbusto sul posto i vigili del fuoco la protezione civile vigili urbani tecnici ed amministratori del comune di rocca piemonte grazie a tutti grazie a tutti